Siamo ad Elettronica 2000 a Trani in via Medio 57 e Raffaele che vi augura buongiorno buongiorno a tutti ha deciso di acquistare questa cassa, guardate, prossimo acquisto a Natale, sarà fatto a Natale, va bene, saluta, buongiorno a tutti, radio show in radio show domenica prossima, ciao, ciao, e saluta Elettronica 2000, e Elettronica 2000 lo sponsor, lo sponsor, ufficiale di radio show, ogni volta che spendete dovete dare soldi al sale, ogni volta che spendete 10 euro, 10 euro, vi fa un bollino, un bollino e poi alla fine c'è la scheda, c'è la scheda che dovete raggiungere 15 bollini e c'è uno scondo di 10, 15, 15 euro ricordate, spendete 10 euro, un bollino, 15 bollini, si fa uno scondo di 15 euro, va bene, accocchiate lo scondo, accocchiate, accocchiate, la cassa l'hai presa? A Natale, a Natale, a Natale che calo, e dal racconto, buongiorno a tutti, radio show, ciao, radio show, questo è Raffaele purtroppo se non sono così, noi non li vogliamo